Apple Gift Card is a practical gift that unlocks a world of entertainment and fun. You can send it via email or give a physical card to your loved ones. Your friends and family can spend it on their favorite Apple services, including Apple subscriptions. Apple Gift Card can be used to buy all things Apple. Products, accessories, apps, games, movies, TV shows, iCloud Plus, and more. Visit apple.com for details and to send Apple Gift Cards to your friends and family this holiday season. Oggi voglio parlare di uno dei brani a cui sono più legato, proprio della storia della musica italiana. Ho già fatto la lettura di questo brano all'inizio del monologato, però sento l'esigenza un attimo di parlarne. Io l'ho scoperto da bambino grazie ad una maestra che ci insegnava inglese, però ogni tanto prendeva delle canzoni e ci spiegava il testo, per farci capire poi la traduzione, certo. Però non è diverso da quello che io faccio nel monologato, anzi quella maestra ha proprio ispirato il monologato, la maestra Perozzi, che credo che sia defunta a questo punto perché era già vecchia vent'anni fa. Però mi è rimasta dentro, la devo ringraziare perché è bello che dei bambini si trovino comunque a riflettere su cose grandi, magari non tutti ricordano quei momenti. Io li ho impressi nella memoria e non li dimenticherò mai, perché per la prima volta ci trovavamo a fare i conti con dei valori. La guerra di Piero, no? Ci face studiare anche, non so, Let it be e via dicendo, ma la guerra di Piero, Samarkandano, nel senso, come la spieghi la morte a un bambino? Analizzando Samarkandano. E mi ricordo che ci ritroviamo davanti a questa scelta, mi rimase tanto quest'uomo che era in guerra e che abbassa le armi e quando le abbassa poi che succede? Che dall'altra parte la persona per cui ha avuto pietà non avrà pietà di lui. Una logica che ha un bambino, come potevo essere io. Non ci arrivi, non lo capisci, ma com'è possibile? E inizi a riflettere veramente sulla vita e la fai in un'età fondamentale. Poi questa canzone mi è tornata molto in mente l'estate scorsa, quando è morto mio zio. E non lo so, me l'ascoltavo, pensavo a lui, mi faceva pensare a lui questa canzone, perché comunque è una canzone che parla di morte in una maniera molto viva, sepolto in un campo di grano. Piero di Deandrè, chi è Piero di Deandrè oggi? Io oggi questa canzone la vedo come una metafora, perché i grandi poeti, i grandi cantautori sono stati e sono soprattutto questo, persone che attraverso una storia raccontano mille, duemila, tremila, cinquemila storie, veramente. Deandrè oggi siamo l'uno nessuno e centomila di questo 2023, che vai triste come chi deve, no? Chiunque è costretto ad affrontare un qualcosa in cui deve credere, ma che magari non è quello in cui crede davvero, ma poi lo va a capire solo davanti al fatto compiuto. Immaginiamo un ragazzo che magari ha studiato medicina tutta la vita e poi si trova per la prima volta in sala operatoria, lì magari si rende conto che non è la sua vita quella, che non vuole farlo, ad esempio, no? Ed è la stessa cosa invece persone che magari appunto trovano un lavoro, si trovano anche bene all'inizio e poi a un certo punto tristi come chi deve vanno a timbrare il cartellino e lo capiscono solo sul fatto. Così questo soldato che parte d'animo puro, diceva lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano luci argentati non più i cadaveri dei soldati. Parte in guerra con l'illusione di poter porre fine alla guerra. Io vado, sacrifico me stesso. Ragazzi, l'amore è fatto di rinunce e quindi c'è questo fatto della rinuncia. Io rinuncio alla mia vita, non lo sai ovviamente perché stia andando lì, la metti in gioco ed è già toccante di suo, che va verso l'inferno, con il vento che sputa in faccia la neve, costretto perché, certo, però ti appelli a un sentimento, ti appelli al fatto che sì, ok, sono costretto, ma vado comunque perché cerco di portare il mio concetto di giusto anche in guerra. E allora fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, renditi conto. Poi, bellissima sta frase, lascia che il vento ti passi un po' addosso, prendi una boccata d'aria, rifletti perché dei morti in battaglia ti porti la voce, per carità, sei un eroe, no? L'eroe di guerra, ma chi diede la vita, e ben cambio una croce fondamentalmente, un pezzo di legno. E mentre marciava, con l'anima sulle spalle, il groppone che si porta addosso, la sua anima stessa, e vede quest'uomo in fondo alla valle, uguale a lui, lo specchio, lui che cosa vede? Vede se stesso, e davanti a se stesso, con un'altra divisa, prova compassione. Questa canzone è la metafora del mondo. Vede se stesso e non può non provare compassione, perché riconosce. Non è un caso che ha detto aveva il tuo stesso identico umore. E allora c'è la paura che parla, la paranoia, il dovere. Devi sparargli, devi farlo adesso e farlo ancora, fino a che non sarà morto. E devi assicurarti che lo sia. Perché un uomo che provi a uccidere e non uccidi, sarà quello che ucciderà te un domani. Queste sono le regole della guerra. Ma davanti a questa consapevolezza, lui si rende conto che a lui non resterà altro che il tempo di vedere la morte davanti. Io non so se me la sento. Cioè è tutto giusto, ok, so che devo fare, ma io non so se me la sento. E quindi utilizza appunto il comportamento più umano possibile. Una premura, ma lui, il suo avversario, la paura è più forte. Non erano uguali. Avevano lo stesso umore, ma non erano uguali. Perché dall'altra parte c'era la paura che ha vinto. E imbracciata l'artiglieria non ricambia la cortesia. Un colpo solo, non un lamento. E capisci, lì capisci che è finita. Che non hai sufficiente tempo. E forse è per questo che mi viene in mente mio zio. Perché lui era malato terminale per tanti anni. Quindi ha avuto il tempo di riflettere invece. Ha avuto il tempo di chiedere perdono per ogni peccato. E sono accaduti anche dei miracoli attorno a lui. E alla sua morte. Però, ninetta mia, crepare di maggio ci vuole tanto. Troppo coraggio. Perché mentre il grano ti stava a sentire, dentro le mani stringevi il fucile. Dentro la bocca stringevi parole troppo gelate per sciogliersi al sole. Ragazzi, queste sono le canzoni che veramente fanno la storia. Oggi ho fatto una session doppia. Ho parlato di Alberto Radius, ho parlato di Andrè. Perché è sempre più forte a volte il desiderio di riattaccarsi un po' ai grandi autori che hanno le nostre stesse emozioni, ma hanno avuto una sensibilità nel raccontarle. Migliore delle nostre perché, insomma, sapevano usare le parole in un certo modo. E quindi anche... Io mi sento anche a volte in dovere di fare il portavoce di certe cose, di certi concetti fondamentali. E onestamente preferisco questi contenuti ai contenuti dove magari mi diverto anche a fare un po' il pagliaccio perché ci sta l'intrattenimento e parte integrante e giocando e scherzando si dicono le più grandi verità. Però mi concedete in questa... mi concederete in questa domenica piovosa, augiosa, di soffermarmi un attimo sulle parole di un tale Fabrizio De Andrè che, insomma... non è proprio l'ultimo arrivato, anche se ha sempre raccontato gli ultimi.